allora devo contare fino a 100 perché sennò io poi sbrocco e faccio danni quindi mi tranquillizzo un secondo e intanto vi carico un video così poi vi dico quello che penso e realmente come sono andate le cose la verità quindi Ludovica Frasca non entrerà nel grande fratello come non entrerà a dispetto di quello che hanno dichiarato i social al momento non è minimamente previsto l'ingresso di Mario Serpa Mario Serpa lo ricordate l'ex fidanzato di Claudio Sona conosciuto durante il trono di uomini e donne è una persona che ha avuto una querelle finita anche in tribunale se non sbaglio con Tommaso Zorzi e quindi il suo nome girava sul web come tra i nuovi partecipanti ma non risulta essere stato contattato invece a proposito di fidanzati e sì allora eccomi qua sì sono in bagno perché mi sto per buttare in doccia ve la chiudo qui vi dico soltanto tre cose a non ho ricevuto nessuna denuncia nessuna querela di nessuno non mi è arrivato mai niente a casa a Roma b non sono l'ex di nessuno ma io sono Mario Serpa ci vorrei ricordare al signorino che gli piace raccontare i suoi follower e la vita la vita degli altri ovviamente raccontando stronzate gli vorrei dire che raccontasse i suoi follower il tragitto Milano studi di verissimo cosa mi ha raccontato in macchina il signorino su due persone un uomo e una donna vediamo se hai coraggio di raccontare le tue follower oppure ti piace soltanto spuntanare o raccontare cavolate su altre persone grazie a tutti